E' una agonia lenta, inarrestabile quella che il Molise sta vivendo da anni, lo spopolamento. Il calo demografico continua a svuotare le nostre città, i piccoli centri, i borghi sempre più silenziosi. La fotografia scattata dall'Istat, aggiornata al 31 luglio scorso, è impietosa. Da gennaio ad oggi si sono persi altri 2.000 residenti, altre 2.000 persone che hanno abbandonato la nostra regione. Sono dati provvisori in attesa di conferme ufficiali che tuttavia danno il senso della gravità della situazione. Una terra, il Molise, che malgrado i proclami delle classi politiche che negli anni si sono succedute e gli sforzi messi in campo per arginare la fuga verso altre regioni, se non addirittura verso l'estero, continua a perdere abitanti. I residenti al 1 gennaio 2021 erano 296.547, pochi mesi dopo, a fine luglio, sono scesi a 294.508, un saldo negativo di poco più di 2.000 unità. In particolare a febbraio si sono persi 400 residenti, a marzo 377, ad aprile 311. Se la tendenza non dovesse cambiare, se il trend resterà questo, si prevede che per fine anno la popolazione molisana scenderà sotto quota 293.000. Dati da brivido che testimoniano il crollo verticale partito in maniera marcata intorno agli anni 90. Nel 1992, infatti, i residenti in Molise erano 330.000. Da allora ad oggi si sono persi 335.000 abitanti, è come se una città come Termoli venisse cancellata. Un problema quello dello spopolamento, che parte dunque da lontano, e che in prospettiva delinea un quadro allarmante per il futuro. Entro i prossimi vent'anni assisteremo ad una vera e propria desertificazione sociale, oltre che economica. In Molise resteranno solo gli anziani, con i giovani costretti ad abbandonare la propria terra. Aspetta dunque a chi governa a livello locale, oltre che centrale, mettere in campo tutte le misure necessarie ad arginare la fuga. In caso contrario del Molise presto resterà ben poco.